Ciao a tutti diavoletti, vi lanciamo una sfida, riuscite a trovare la scimmia diversa in questa foto? Eh sì, c'è una scimmia diversa in questa foto, oh oh, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno Cosa? Avete trovato la scimmia? Lasciate un mi piace se avete trovato la scimmia e commentate con un cuore rosso Perché noi adesso saluteremo, saluteremo Preparatevi, tre, due, uno Vinci, aspetta, rullo di tamburi Giorgia, ciao Giorgia Ciao Giorgia, un bacione, ciao Giorgia Ciao Giorgia, ciao Ok, Vinci, noi siamo nel ben mezzo della foresta Come potete vedere siamo in una foresta e stiamo continuando ad andare avanti anche se qui c'è solamente verde Ok, noi siamo in questa foresta e stiamo cercando di trovare un uovo di dinosauro Esatto, è quello il nostro scopo, lo so, è molto difficile Sì, perché i dinosauri si sono estinti Ma tranquillo, Anto, ci riusciremo, continuiamo ad andare avanti, sempre avanti Un uovo di dinosauro Cosa dici? No, non è un uovo di dinosauro È solamente una roccia gigante, Anto Tu ci vuoi? Qualcuno mi ha inviato un messaggio Forse è un dinosauro? Giorgia, ma non ti aiuto, qualcuno mi ha inviato un messaggio Cosa dice? Ok, guarda Vinci Ok Cosa? Vinci, dobbiamo leggere? Sì, leggi Ciao, sono una persona misteriosa, state camminando per strada? Perché ci ha fatto questa domanda? Non lo so, perché questa persona misteriosa ci ha fatto questa domanda? Sì, noi stiamo camminando per strada Siamo per strada, guardate diavoletti, siamo proprio qui Sì, stavo per scivolare Attenzione, perché è bagnato? Sì Ok, ma stiamo camminando per strada La persona misteriosa, sì? Sì, stiamo camminando per strada, perché? Cosa ci ha risposti? Anto, leggi Visto che state camminando, adesso voglio dirvi la strada per un posto bellissimo Cosa? Forse questa persona misteriosa vuole aiutarci a trovare le uova di dinosauro? Sì, dai Vinci? Sì, dici la strada per il posto super bellissimo Vinci? Questa persona vuole dirci la strada per un posto bellissimo? Ma Vinci? Non sei curioso? Vinci, noi dovremmo fidarci di quella persona Ma certo che sì, Anto, siamo nel bel mezzo della foresta Devo parlarvi un attimino Secondo voi dobbiamo fidarci di quella persona? Vinci? Si sta affidando troppo Eh sì, questa persona ci sta inviando dei messaggi troppo strani E Vinci si sta affidando troppo Anto? Vinci, girati un attimo Che c'è? Girati Wow, guardate lo zainetto di Vinci È super bellissimo Io sto continuando a pensare a quella persona misteriosa Che ci ha detto che ci dirà Un uomo di dinosauro No È soltanto una foglia Ok, Anto ma Vinci Oh no Oh no Eh? Cosa succede? La persona misteriosa vuole dirci la strada? Vinci, un altro messaggio Siete pronti? Dovete seguire le mie indicazioni Siamo pronti Aiuto, aiuto diavoletti Guardate cosa ha inviato la persona misteriosa Dai Anto, perché tu non sei pronto? Vinci, guarda No, non sembra essere pronto Guarda, siete pronti? Dovete seguire le mie indicazioni? Siamo pronti Anto La persona misteriosa ci porterà in un posto bellissimo E ci dirà la strada giusta Dove ci porterà mai? In un mondo dei dinosauri magari? Vinci Oh, dove ci saranno tantissime uova? Dove si schiuderà? Basta Adesso? Io dirò di sì Sì Siamo pronti? Siamo pronti Sì, dacci le indicazioni per il posto bellissimo Siamo pronti? Va bene Andate sempre avanti per cinque minuti Ok Quindi dobbiamo andare sempre avanti per cinque minuti? Sì, Vinci Ma chi è? Chi è questa persona misteriosa? Questi sono i suoi occhi che ci stanno spiando dal tuo telefono? Sì Ho molta paura Vinci, guarda i suoi occhi Guarda i suoi occhi Sì, guardate, diavoletti Questi sono proprio gli occhi della persona misteriosa Che sta continuando ad inviarci messaggi Ma, Anto Cinque minuti Sì Dobbiamo Vinci Dobbiamo andare sempre avanti per cinque minuti Oh, Vinci Guarda Andando sempre avanti Ci sono delle scale mobili Sì, dobbiamo continuare da questa parte Dai, Anto, forza Vinci Guarda Qui ci sono delle scale mobili Ok Noi dobbiamo andare avanti per cinque minuti Quindi ci tocca fare le scale mobili Ok, Vinci Forse questa persona ci sta portando in un posto misterioso Un posto bellissimo L'ha scritto per la persona misteriosa No, Vinci, attenzione Se non fosse poi così bellissimo Vinci, adesso dobbiamo andare sempre avanti Sempre avanti Sempre avanti Ma aspetta, Vinci Aspetta Che c'è? C'è un problema Allora, dobbiamo andare a sinistra Oppure sempre avanti Sempre avanti Ricordi il messaggio della persona misteriosa? Vinci, qui ci sono due strade Sinistra oppure avanti Avanti è la risposta Un messaggio Un messaggio Cosa? Adesso girati a sinistra Quindi non dobbiamo andare da quella parte Ma da questa No, a sinistra Ok Dai, Vinci, vieni a sinistra Andiamo a sinistra Speriamo che questa persona ci stia portando in un posto bellissimo Vinci, abbiamo trovato il posto Il posto Cosa? C'è una musichetta di sottofondo? Vinci Wow Siamo in un posto molto misterioso e sembra essere bellissimo Vinci? Che cos'è quella capanna? Perché siamo in un posto? V-O-L-C-A-N-O Volcano? Significa vulcano! Wow, siamo in un posto bellissimo Allora, dobbiamo andare sempre avanti Ok Vinci Siamo arrivati nel posto misterioso Adesso dobbiamo esplorare questo posto misterioso insieme, diavoletti Perché quella persona sconosciuta potrebbe nascondersi anche in quel cestino Esatto, perché noi non sappiamo di chi si tratta Potrebbe essere anche Skibi di Toilet Potrebbe essere una persona molto misteriosa Vinci, controlliamo in questo cestino Ehm Vedi qualcosa? Soltanto rifiuti, Anto Continuiamo Vinci, un altro messaggio Adesso cosa dice la persona misteriosa? Diavoletti, questa persona misteriosa cosa vuole da noi? Non capisco Cosa? Bene? Avete trovato il posto? Entrate? Subito Perché dobbiamo entrare subito? E guarda questa faccia Vinci Questa è la faccia della persona misteriosa E sembra una faccina molto sospetta Ok, Anto, entriamo subito, come dice la persona misteriosa Forza? Ok Entriamo subito in questo posto? Spero bellissimo Ok Ok, ci stiamo avviando verso l'entrata Vinci, guarda quest'acqua Guarda cosa fa Però, devo ammettere che da qui sembra veramente un posto bellissimo Siamo... Wow Vinci, vuoi vedere? Vinci, vuoi vedere? Vado qui sotto? Cosa? Sì Ok Adesso vado qui sotto Tra tre, tre, due, uno... No ma ti... Casca! Ok, dirigiamoci verso l'entrata Viavoletti, questo posto è molto misterioso Oh Molto misterioso, molto misterioso E guarda Questa è una pietra? Oh, una pietra megagigante? Sì, è una pietra mega gigante. Cosa? Vinci, questa pietra parla? Cosa? Cosa? Perché questa pietra parla? Oh, guarda la sua lingua mega lunghissima. Diavoletti, questo posto è molto misterioso. E guardate, c'è una pietra con un naso, con degli occhi e una bocca. Questa pietra canta. Ok, sembra veramente un posto bellissimo e magico. Vinci, ma perché questa pietra canta? Non lo so, ma è bellissima, non credi? Ok, Yanto, ma adesso continuiamo ad andare sempre avanti, sempre avanti. Dobbiamo ancora dirigerci perché continui a guardare la pietra misteriosa. Vinci, guarda il naso, guarda il naso di questa pietra. Oh, questa pietra ha proprio una fa... Vinci, vieni dai, adesso dobbiamo entrare in questo posto, dobbiamo entrare in questo posto, vieni. Andiamo. Ok, siamo entrati in questo posto misterioso. Vinci, che cos'è questo posto? Che cos'è? Non lo so, sembra che... Guarda, Vinci, ci sono ancora cose con delle facce, guarda. Qui c'è una faccia con dei denti. Ok, Vinci, non è che vuole morderci? Oh no, ok, allontaniamoci da qui. Sì, allontaniamoci da quella faccia con dei denti. Ma siamo ancora in una foresta. Andiamo qui, Vinci, andiamo sempre avanti. Andiamo sempre avanti. Forse ci sarà una rivelazione di un posto super bellissimo, perché adesso siamo ancora in questa foresta. Ed è super bellissima, ma io voglio... Vinci, ma secondo voi chi è quella persona misteriosa? Perché quella persona misteriosa si nasconde qui dentro? Potrebbe nascondersi anche dietro queste piante, Anto. Bene, allontaniamoci allora. Ok. Altre facce, altre facce, ci sono facce dappertutto. Vinci, guarda questo posto, guarda questo posto. Ci sono delle facce, qui ci sono delle facce. Sì, con dei denti e degli occhi ed un naso. Vinci, mi sta robando qualcuno! Cosa? Non è vero, è uno scherzo. Ti sembra il momento di scherzare, non adesso? Oh, ma questo sembra essere un posto super bellissimo e magico, non credi, Anto? Anto, dove sei? Sono qui, Vinci. Ok, dai, andiamo sempre avanti. Ci sarà di certo qualcosa che ci starà aspettando lì. Andiamo avanti. Guardate quegli occhi, non è che la persona misteriosa è proprio questa? La persona misteriosa potrebbe essere dappertutto, quindi dobbiamo avere gli occhi ben aperti. Attenzione, Vinci. Ok, andiamo sempre avanti, dai. Andiamo sempre avanti. Sempre avanti, c'è qualcosa di molto... Cosa? Guarda lì, c'è un vulcano super gigante. Lì c'è un vulcano, diavoletti? Lì c'è un vulcano. Cosa? Diavoletti, ma questo è... Un posto bellissimo. Aspettate. Cosa c'è, Anto? Questo è... Un acquapark! Sì. Cosa? Quindi la persona misteriosa... Sì, Vinci, siamo in un acquapark e vai! Sì, diavoletti, anche a voi piacciono gli acquapark. Lì c'è un'altra... Un'altra pietra con la faccia. Ecco, è proprio qui. Eh? Diavoletti? Ma queste pietre parlano! Eh sì, queste pietre parlano! Hanno qualcosa a che fare con la persona misteriosa che ci ha portati qui? Probabile, quindi occhi ben aperti, diavoletti. Forse, Vinci, forse le cose in quest'acquapark prendono vita. Sono magiche? You should really put on some sunscreen. Sì, parlano, parlano. Sono proprio magiche? Le cose in questo parco sembrano proprio magiche? Vinci, un messaggio! La persona misteriosa mi ha inviato un messaggio di nuovo! Ehi tu, ma perché parli sempre? Stai facendo i dispetti? Sta facendo i dispetti. Sta cantando una canzoncina, ok, Yanto, ma la persona misteriosa cosa dice? Guarda, guarda cosa ha detto. Diavoletti, notiziona, notiziona! Leggi. Adesso divertitevi in quest'acquapark. Dobbiamo divertirci? Aspetta, cosa c'è scritto sotto? Leggi. Io vi aspetterò in uno dei ghiscivoli? Cosa? Fate tutti gli ghiscivoli? Ok, 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 aspetta. Quindi adesso noi siamo in questo parco acquatico e la persona misteri... Ehi tu, zitto! E la persona misteriosa ci sta aspettando in uno dei ghiscivoli? Sì, la... Questo significa che la persona misteriosa potrebbe uscire da un momento all'altro e potrebbe rapirci mentre noi stiamo facendo gli ghiscivoli di quest'acquapark? Vinci, la persona misteriosa si nasconde negli ghiscivoli. E io adesso, cioè, dobbiamo fare gli ghiscivoli di tutto l'acquapark. Ok, da dove iniziamo? Perché io qui non vedo scivoli. Ok, andiamo via da qui, dai, siamo ancora in tempo. Vinci, no! Non andiamo via! Ok, Yanto, io continuo a pensare che questa non sia una buona idea. Vinci! Dobbiamo cercare quella persona misteriosa. E si trova sugli scivoli, cioè potrebbe essere ovunque. Qui ci sono tantissimi scivoli. Eh sì, qui ci sono tantissimi scivoli. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Ma guarda questa medusa. Questa è una medusa super gigante. Ok, Yanto, tre, due, uno. Aspetta! Vai! Tre, due, uno. Adesso mi lancio qui sotto. Ok, vai! Ok! Yanto, ma adesso non possiamo restare qui. Non possiamo divertirci! Dobbiamo immediatamente andare sugli scivoli. Forza! Ok, Vinci, andiamo. Quarta cosa troviamo! Un salvagente! Molto sospetto. Perché questo salvagente era qui da solo? Non lo so, Vinci. Eh? Tutti i salvagenti stanno andando da quella parte. Forse dobbiamo andare da quella parte. Vieni, Vinci, vieni. Oh, Vinci, mi sta tirando coltata! Cosa? Vinci, l'acqua mi sta trasportando! Ok, Vinci, dobbiamo cercare quella persona misteriosa. Controlliamo sott'acqua. Ok. Qualche traccia? No, non c'è nessuno. Non c'è quella persona misteriosa! Ok, l'acqua sta continuando a trasportarci. Forse sta trasportando anche la persona misteriosa. Oh, Vinci, la persona misteriosa! No, è una foglia. Vinci! Oh no, stiamo continuando a cercare la persona misteriosa, ma nessuna traccia. Vinci, ti devo dire una cosa. Canto, cosa succede? Vinci, hanno inviato un messaggio. Cosa? Cosa dice? Sono in uno scivolo. Sono in uno scivolo? Questo messaggio è da parte della persona misteriosa? Ok, Vinci, quindi non si nasconde nella piscina. Non è qui! Ok, quindi abbiamo cercato per nulla? Si nasconde in uno scivolo. Mi ha inviato un messaggio. Vincito, attenzione! Oh, una roccia! Vinci! Ok, adesso ti colpisco. Ok, andiamo subito, non abbiamo tempo da perdere. Ok, adesso dobbiamo oltrepassare questa rete. Guardate, qui c'è una rete. Vinci, aspettami qui, io salgo. Ok, Yanto, attenzione. Aspetta! Ok, chiamoretti. Adesso io sto per salire questa rete. Dobbiamo cercare quel personaggio misterioso. Esatto, la persona misteriosa che ci ha inviato messaggi. Adesso io lo so! Ok, dobbiamo arrampicarci su questa... Non ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta? Arrivo! Vinci, vieni! Vado! Attenzione, Vinci, attenzione! Dammi la mano! Ok, stiamo cercando quel personaggio misterioso. Dai, Yanto, non possiamo restare qui. Dobbiamo andare avanti. Vinci, vieni! Ok, Vinci, allarme, allarme! Qui c'è uno scivolo! No, non è uno scivolo, Anto, è soltanto un passaggio. Ok, dobbiamo entrare in questo passaggio. Sì. Ok, Yanto, attenzione che la persona misteriosa potrebbe rapirci. Vinci, aiuto! Adesso sì che è un allarme? Sì, diavoletti, qui c'è uno scivolo. E dentro questo scivolo potrebbe esserci il personaggio misterioso. Ok, vai tu in questo scivolo? Sì, vado io. Vado io. Quindi, diavoletti, venite con me. Adesso faremo questo scivolo insieme. Attenzione, potrebbe esserci la persona misteriosa. Sì, devo stare molto attento. Adesso vado. Diavoletti, sto andando. Adesso faremo questo scivolo. E speriamo che non ci sia la persona misteriosa! Ok, sto scendendo. Vedete la persona misteriosa? Ok, la persona misteriosa. Vinci, non c'è la persona misteriosa sullo scivolo azzurro! Vinci, arrivo! Adesso vado subito da Vinci. Vado subito da Vinci. Wow, ciao! Ok, non c'era nessuno. Non c'era nessuno? Non c'era nessuno nello scivolo azzurro. Ok, dobbiamo provare gli altri scivoli, andiamo. Dobbiamo provare tutti gli scivoli perché dobbiamo cercare quel personaggio misterioso che ci ha fatti venire qui. Esatto, andiamo. Ok, passaggio. Dai, diavoletti, aprite bene gli occhi perché adesso io entrerò in un altro scivolo e di certo... Sì, tocca a me. Ok, andiamo da questa parte. Vinci, in questo scivolo azzurro non c'è nessuno. Non è quello giusto. Andiamo da questa parte. Diavoletti, dobbiamo superare questa rete. Aspetta Vinci, lo faccio prima io. Ok, c'è un ponte qui. Aiuto, provo leggi. Arrivo. Ok. Ok, Vinci, ti devo dire una cosina. No, questo è uno scivolo tubo, è tutto chiuso. La persona misteriosa potrebbe trovarsi qui dentro. Sì, Vinci, questo scivolo giallo è tutto chiuso e tu adesso devi farlo. Ok, tocca a me. Bene, devo oltrepassare questo scivolo minuscolo blu. Vai, Vinci. E attenzione perché potrebbe essere qui dentro. Ok, Yanto, vai prima tu. Vai, Vinci, vieni. Ok, dobbiamo oltrepassare questo tubo. Ok, Vinci, fai questo scivolo giallo. Ok, Yanto, tocca a me, vado. Diaboletti, qui potrebbe esserci la persona misteriosa. Vi controlla che c'è il personaggio misterioso. Oh no, ha veramente molta paura. Diaboletti, c'è il personaggio misterioso qui dentro. No, non vedo nessuno. Non c'è nessuna. Ok. Ok, no, non c'era nessuna traccia della persona misteriosa. Diaboletti, voi avete visto qualcuno? No, non c'era nessuno lì dentro. Bene. Quindi adesso dobbiamo avvertire Anto. Oh no, dobbiamo provare tutti gli scivoli. Ok, diaboletti, dobbiamo raggiungere Anto. Andiamo da questa parte. Oh no, il personaggio misterioso potrebbe trovarsi dappertutto. No, questo è quello sbagliato. Ok, Anto era da questa parte. Andiamo qui. Ok. Dov'è Anto? Oh no, è se la persona misteriosa avesse rapito Anto? Ah! Oh, ok. Non era in programma. Ah, non era in programma. Ok. Vedete Anto da qualche parte? Diaboletti, dov'è Anto? Dobbiamo subito cercare Anto. Ok. Non sembra essere qui. Anto, non sembra essere qui. No, non è qui. Ok. Forse da questa parte. Ok, diaboletti, se vedete Anto, avvisatemi. Scendiamo le scale. No. Non è qui. Anto, non è qui. Ok. Adesso proviamo questo qui, Rosa. E speriamo che non ci sia nessun personaggio misterioso. Ah! Diaboletti! Sono su questo scivolo rosa! E non c'è nessuno? No, non c'è nessuno. Oh! Aiuto! Non è che si nasconde qui? Aiuto! Diaboletti! Ok, diavoletti. Non c'era niente. No. Nello scivolo rosa non c'era niente. Ma adesso dov'è Vinci? Non è che qualcuno ha rapito Vinci? Non è che la persona misteriosa ha rapito Vinci? Ok, dov'è? Non ti trovavo! Sei tu! Ok Vinci. Dov'è? Abbiamo provato tre scivoli. Io quello rosa, quello azzurro e tu? Tu hai provato quello rosa? E tu cos'hai provato? Quello giallo. Ok, abbiamo provato tre scivoli. La persona misteriosa non è nessuno dei tre scivoli? No, la persona misteriosa non è da nessuna parte. Ok. Ma adesso c'è un altro scivolo Vinci. È da quella parte. Andiamo da quella parte? Ok, diavoletti, dobbiamo evitare l'acqua. Cosa? Dobbiamo altrepassare questo ponte? Aspetta, lo faccio prima io. Va bene? E poi lo fai più. Ok, Yanto, ma fa attenzione. Potresti cadere. Guardate, questa è una rete. Ok, Yanto, devi fare molta attenzione. Come una scimmia. Fa come una scimmia. Ok, vengo anch'io. Yanto, sei alla fine? Ok, sto per arrivare, aspetta. Oh, Vinci, non devi cadere. Vinci, attenzione, dobbiamo trovare il personaggio misterioso. Ce l'hai fatta? Ok, Yanto, adesso dov'è? È il quarto scivolo di cui parlavi. Vinci, è da questa parte. Vieni. Guarda, c'è un'altra rete. Attenzione. Ok. Dai. Tutto bene? Tutto bene. Ok. Diavoletti. Oh. Diavoletti, dai. dobbiamo trovare la persona misteriosa solo in quel momento. Vinci, c'è un problema. Vinci, c'è un problema. Sì, c'è un problema. Sì, c'è un problema. Ok. Adesso, Anto. Adesso, adesso. Passiamo oltre questo scivolo minuscolo. Vieni, vieni, vieni. Ok, diavoletti c'è acqua dappertutto qui. Anto, sei alla fine? Noi dobbiamo trovare quella persona misteriosa. Ma dov'è? Perché abbiamo trovato tre scivoli ma nessuna traccia della persona misteriosa. E quelli sono chiusi. C'è zona misteriosa. Ok, Vinci, negli scivoli che abbiamo fatto non c'era nessuno. Nessuna traccia di assolutamente nessuno. Nessuna persona misteriosa. Quindi dobbiamo fare un altro scivolo. Perché noi dobbiamo trovare quella persona. Vero, diavoletti? Sì, certo che dobbiamo trovare quella persona. Andiamo da quella parte. Forse c'è un altro scivolo. Andiamo da quella parte. Vinci, ti devo dire una cosa. Dimmi. Diavoletti, guardate. Questo scivolo blu, piccolino, non l'abbiamo mai fatto? No. Secondo me qui dentro c'è qualcuno. Eh sì? Dentro questo scivolo blu piccolino c'è qualcuno. Aspetta! Vinci! Guarda cosa c'è scritto qui! Cosa? Qui dentro c'è qualcuno? Cosa? Vinci! Oh no! Quindi la persona misteriosa si nasconde in questo scivolo? Sì, la persona misteriosa si nasconde in questo scivolo blu! Andiamoci subito. Ok, ci vado io. Ci vado io. Vinci, tu aspettami qui. Vinci, aspettami qui, abbracciami. Ok Vinci, adesso vado io in questo scivolo blu, va bene? Diavoletti, fatemi compagnia. Perché sto per andare... ...nello scivolo di quella persona. Attenzione, attenzione! Cosa succederà? Vinci, sto per salire le scale. Ah, ok! Ecco, siamo qui e nessuno, no, nessuno fa questo scivolo. Perché c'è quell'avviso? Ok, diavoletti, noi dobbiamo fare questo scivolo. Perché dobbiamo trovare quella persona. Ehi, qui dentro c'è qualcuno! Ciao! Eh? Entra! Hai... Oh, cosa? Avete sentito? Eh? Diavoletti, c'è qualcuno. Quindi questo è lo scivolo giusto. Dai, andiamo! Diavoletti, adesso entreremo in questo scivolo. Entreremo in questo scivolo. E vedremo la persona misteriosa. Andiamo! Aiuto! Oh, no! Cosa? Anto, perché stai continuando ad urlare? Oh, no, diavoletti, questo scivolo è super piccolissimo. Guardate. Anto, perché non esce da qui? Perché non scendi da questo scivolo? Dovresti essere qui adesso! Anto, cosa? Hai incontrato la persona misteriosa? Ok, smetti l'acqua, basta! Oh, no! Perché Anto non esce da questo scivolo? E se la persona misteriosa avesse rapito Anto? Oh, no! Vinci! Vinci! Ho visto la persona misteriosa! Ok, hai visto la persona misteriosa in questo scivolo? Vinci! La persona misteriosa si nasconde in questo scivolo! Oh, no! E non vuole uscire? No, non vuole uscire! Hai visto la sua faccia? Ok, avviciniamoci a quello scivolo e cerchiamo di far uscire quella persona misteriosa! Andiamo! Ok, diavoletti, adesso cercheremo di far uscire quella persona misteriosa dallo scivolo! Ok, ok! Ehi, persona misteriosa esci da qui! Dai, non avere paura! Vieni! Esci dallo scivolo! Non puoi restare per sempre in questo scivolo! Dai, esci persona! Esci! Oh? Lì c'è un dito! Guardate! Lì c'è un dito! Cosa sta facendo? No! No? No! Sta dicendo no? Oh? Dai, esci! Dai, esci da qui! Abbiamo ricevuto i tuoi messaggi! È per questo che siamo qui! Finalmente abbiamo trovato la persona misteriosa si nasconde qui dentro! Oh, è stato molto difficile! Vinci, guarda! La persona misteriosa si nasconde qui dietro! Ehi, esci! Ehi, dove vai? Cosa? Vinci, la persona non c'è più! Ma avete visto tutti? C'era una persona qui dentro! No!